ragazzi ho qua sul canale un certo personaggio non so se ve lo ricordate daniele brogna eccolo qua piano con gli applausi ragazzi piano guardate che zoom incredibile anche bello ragazzo ragazzi ciao ciao luca ciao danni come stai sto bene sto bene sono teso nervoso ancora i postumi di insomma minaspezia però sono qui per parlare di calcio comunque minaspezia è andato tutto bene mi pare di ricordare non mi pare che ci sia accaduto niente di particolare un pareggio che magari sta un po stretto al mio poi è preciso che ho visto la partita fino al novantesimo poi sono andato a letto ma come scusa io ho visto che il milan ha vinto con il gol di messias veramente è 2 a 1 milan dobbiamo fare gli imbecilli a vita possiamo concluderla qua ci stavo quasi credendo per per un attimo no però ecco questo diventa invece interessante lato partita con la juventus no perché adesso la prima domanda che ti faccio anzi prima di farti una domanda ti dico e dico ai ragazzi che sul tuo canale contemporaneamente a questo altro video è uscito l'altro video in cui io parlo di milan invece in questo tu parlarei di juve insieme parliamo di milan insieme parliamo di juve esatto quindi la domanda brucia pelo che faccio da tifosi venti ci facciamo questa te la faccio io e basta ora inizia un po ad avere paura della juventus sotto il punto di vista della rincorsa champions dico la verità vedi te nel senso clippato ragazzi no ok no no nel senso che ci sta è nel senso non è una risposta folle no nel senso che l'altro giorno vabbè ho dato un po una era in collegamento con gli autogol mi hanno fatto una domanda brucia pelo dicendo la corsa nella corsa champions chi vedresti fuori tra napoli atalanta juve milan escludiamo l'inter e ho detto juve poi mi sono un po pentito perché ragionandoci dopo non sono stato l'unico a dire juve però ragionandoci dopo ho detto beh forse forse juve barra juve barra napoli forse perché la juventus secondo me come organico è più forte del napoli e il napoli mi dà meno la sensazione di essere una squadra costante poi quest'anno particolarmente sfortunata gli infortuni stanno colpendo tante squadre la juve stesso che con chiesa personalmente possiamo dire il 40 50 per cento del terminale offensivo nel senso lui è uno questo qui nel senso è stato il grande assente chiesa in realtà del giorno d'andata giorno di ritorno inizia bene gol al napoli assist con la con la roma poi si mancava un po chiesa però sicuramente perdi un'arma perdi una bella arma e quindi diciamo che ho risposto juventus a quella domanda brucia pelo quindi juventus fuori ora come ora dico secondo me potrebbero giocarsela juventus e napoli per un posto guarda quando mi hai detto no secco la prima cosa che ho pensato è stata non succede non succede ma non vedo l'ora se dovesse succedere a maggio giugno di di riesumare questo video già vi immagino la notifichina su instagram è stato taggato da luca toselli chissà cosa sarà mai cosa sarà mai sai perché ti faccio questa domanda io addirittura l'altro gioco perché ci sono diversi tifosi della juve di tipologie di tifosi mai anche del mila poi ne parleremo sì ma è normalissimo proprio a livello di mentalità che somaro che sei perché qualcuno ancora mi parla di sudetto alcuni addirittura mi parlano di champions l'altra sera il milan vincendo andava più uno sull'inter con l'inter ancora una partita a recuperare con la colbogna non sappiamo però perdendo con lo spezia e aprendo al big match di san siero con la juventus si passa forse da quelle che potevano essere stelle a se va bene per me male per te quasi stalle e quindi potrebbe rimettersi un po tutto in discussione credo che questo sia il campionato proprio competitivo il livello del campionato in questo momento competitivo proprio perché tutte le squadre bene o male sono lì a livello di rosa di organici forse l'inter è quella più staccata come dicevi anche te però il milan aveva l'opportunità di andare vicino all'inter superare l'inter e ora invece la juve può avvicinarsi al milan quindi sì nel senso che il milan aveva già perso un'altra occasione se ricordi nel derby no che poteva andare a più dieci dall'inter poi la partita finì finì in pareggio non siamo nuovi a questi a questi blocchi proprio nel momento in cui dobbiamo dimostrare l'indice di una di una squadra magari non pronta ma parlando di juve perché qui appunto si parla di juve dico che rende scherza con i sei non si va avanti e poi questo campionato ci è abituato veramente a risultati assurdi ma se ci fai caso dovesse la juve vincere con il milan e dovesse poi vincere col verona considerando che il milan a juve e poi inter inter rende scherzando ti ritrovi la juve a meno uno è quello che che la domanda è stata hai paura che perché ho fatto sì calcoli in effetti adesso iniziamo a cambiare sono gli stolti non cambiano la idea quindi cambia ricomincio il video al di là di questo alla fine io non è che sto lì a col goniometro con la calcolatrice a fare le proiezioni però in effetti facendoti due calcoli nel brevissimo termine perché due partite sono brevissimo termine dici guarda te se veramente alla fine da che la juve era una stagione disastrosa e il milan una stagione spumeggiante ne perdi ne perdi tu di fila con juve inter che è probabile nel senso tutto può succedere la juve vince col milan e vince col verona e ti ritrovi la juve a meno uno mi hai rovinato l'umore no vabbè guarda voglio darti due statistiche che ti tranquillizzeranno grazie so che sei il re delle statistiche soprattutto ultimamente grazie le ho lette le ho lette la juventus nell'anno solare 2022 è la squadra che ha segnato di più in questo momento e da ottobre da fine ottobre è insieme all'intera squadra che ha fatto più punti in serie a quindi nel senso tranquillo che non vabbè non pensavo dai va bene adesso a parte queste due statistiche di merda buttate di sopra per vedere la tua reazione no ma non sono vere no sono vere sono vere però sono vere ok volevo solo vedere la tua reazione ma non c'è una cosa no mi aspettavo delle statistiche a pro milan invece di qui nulla nulla volevo vedere la tua reazione però sei stato impassibile complimenti no partiamo torno indietro di un anno l'anno scorso l'ultima volta che ci troviamo qua a fare questo stesso video juventus e milan si giocavano effettivamente le ultimissime giornate l'ultimo accesso diretto l'ultimo posto per accesso alla champions league che partita insomma mica tanto no dico anche prima che hype che c'è ecco quello vabbè che partita non mi è piaciuta tanto però io lì ti ho detto guarda secondo me è dentro fuori una delle due cioè chi vince è quella messa meglio per poi c'è stato il suicidio del napoli a verona noi sappiamo com'è andata però all'andata la juventus aveva vinto 3 a 1 a san siro doppietta di federico chiesa che è proprio il giocatore che invece andrà a mancare rispetto all'anno scorso mancano chiesa e ronaldo due assenze assolutamente pesanti e quindi io ti chiedo cosa manca invece a questa juve adesso cioè se tu sei il dirigente della juve a gennaio devi far l'acquisto magari già per battere il milan lo puoi già schierare uno o due giocatori un ruolo quello che pensi sarò molto banale nel senso secondo me la juve in difesa cioè nel senso la difesa il portiere non ne parliamo nel senso ci sta difesa sicuramente sarebbe da sistemare ma non è il primo reparto che mi viene in mente per sistemare centrocampi attacco bella lotta forse ti dico effettivamente la prima punta poi sono anche condizionato dal fatto che a me Morata non ha mai fatto impazzire Ken lo considero un buon giocatore però insomma non affiderei il reparto offensivo di una squadra gloriosa come la juventus e quindi forse proverei a prendere qualcuno in avanti chi prenderei anche qui è complicato perché il mercato di gennaio storicamente o ti va di lusso che ti prendi il tuo amore di turno che è praticamente un nome un piano forse neanche B addirittura C e ti va bene oppure devi ma cacciando i soldi secondo me non prendi nulla ora come ora chi puoi prendere cacciando tanti soldi cioè non è che ti puoi prendere la prima punta di una di una squadra piuttosto puoi provare a prenderti quei giocatori secondo me la Juve ora ha bisogno di un giocatore che sa il fatto suo magari anche non dico a fine carriera ma comunque nella fase carante della carriera che magari ha voglia di di un riscatto penso io vado matto per Cavani ad esempio è ovvio che lì non è un progetto a lungo termine assolutamente no però magari è un giocatore che ti può tornare effettivamente utile ora faccio sti nomi senza neanche sapere no no certo ma io non volevo sapere cose concrete quindi la tipologia di giocatore poi si parla anche molto di Cardi allora i Cardi sicuramente è un uomo d'aria è un bomber che piaccia meno però non lo so nel senso io vedo che la Juventus fatica a far arrivare la palla dentro l'aria ed essendo i Cardi uno che non amo uscire dall'aria lui non fa il gioco sporco i Cardi i Cardi sta lì e vuole buttare la palla dentro dico non lo so prendendo un bomber come i Cardi che sicuramente è forte basta basta questo sicuramente ho visto una Juve in crescita nelle ultime partite e sta creando molto di più e magari anche più in fiducia forse avete trovato l'assetto giusto mentale e tattico ti ribalto la domanda non è che tu puoi fare le domande a me sulla Juventus tu sei qua per rispondere alle domande che ti faccio io era una domanda retorica perché la risposta è sicuramente sì ti aspettavi però queste difficoltà della Juventus da inizio campionato d'ora? sì potevo anche aspettarmene ma non fino a questo punto cioè ok la prima partita con l'Udinese andò male se non sbaglio da 2-0 a 2-2 esatto la seconda con l'Empoli persa in casa non mi aspettavo una roba io ricordo anche una delle prime interviste di Allegri dopo due o tre partite no anche di più dopo quattro o cinque partite dove le cose andavano male male lui disse quelle davanti non possono correre sempre vero ma tu che sei dietro invece devi correre tanto tanto se perdi tanti punti beh noi all'andata abbiamo fatto Juve-Milan la quarta la quarta di campionato la Juve aveva un punto prima di quel Juve-Milan e ha pareggiato e ha fatto due punti nelle prime quattro mamma mia no no è impressionante io penso che nessuno io avevo pronosticato forse la Juve con Ronaldo però addirittura prima perché questo ritorno di Allegri la vedevo come una svolta assolutamente positiva quando è andato via Ronaldo ho detto qua ovviamente lo scudetto secondo me se lo sono un po' giocati con questa cessione ma devo ammettere che non pensavo però ad un contraccolpo così anzi si diceva eh ora che va via Ronaldo finalmente la squadra giocherà da squadra e non più per un singolo sì cosa che che è andata così è andata così che è andata alla fine è un Ronaldo no? un fuoriclasse come Ronaldo è è ovvio che sicuramente vincola molto il modo di giocare di una squadra perché lui ha un peso specifico diverso nella squadra per la storia per la bacheca il palmarès in generale eccetera però è anche quello che ti risolve tante partite io penso ad esempio anche alla partita vostra dello scorso anno a Udine che era cruciale sporchissimo è calcio di punizio facendo pietta lui se non sbaglio fece gol di testa all'ultimo secondo è all'ultimo secondo e lì è lì quello è Ronaldo quello è Ronaldo che seppur ti vincola in tante situazioni lì esce il campione e ti risolve la partita quindi rimpiazzare Ronaldo con Ken ovviamente non è la stessa cosa e ti ripeto mi poteva aspettare una una Juve una Juve in difficoltà non così tanto e pensavo che avendo Allegri allenato tantissimi anni nella Juventus pensavo che una partenza così fiacca potesse recuperarla a livello mentale subito e invece ha faticato molto più del previsto come mai mi hai citato due ancora mi ribato no non posso fare domande scusa no però mi hai citato Allegri due volte quindi una volta te lo cito io cosa pensi di Allegri da tifoso che l'ha avuto tifoso che l'ha visto d'avversario e che ora lo vede l'avversario con un timeskip di due anni nel mezzo mi sono perso l'ultima parte così da averlo avuto in squadra averlo visto d'avversario e averlo rivisto adesso con un timeskip di due anni in mezzo dove sono passati ti sa riepirlo alla Juve una parola in inglese mi è andata in pappa allora devo dire che quando era al Milan comunque non seguivo il Milan o meglio lo seguo da una vita ovviamente ti favi Inter all'epoca no? lo so che vuoi lo scoop per il titolo ma non ti darò questa soddisfazione però non hai negato sentito non ho smentito e lascio questa lona di mistero che magari può no però quando era al Milan cioè quando ero ormai 12 anni fa 2010 12 anni fa avevo più un tifo da tifoso ignorante che guarda i risultati guarda i giocatori non sta lì a guardare la tattica le scelte del mister il cambio ora mi rendo conto che magari prima di giudicare i giocatori giudico Pioli dico cazzo poteva fare quel cambio cazzo perché non ha allargato è una visione dell'esercizio esatto un'evoluzione un po' più matura mi prendo questo lo dico da solo all'epoca invece no quindi fatico a ricordare Allegri e quindi al Milan quindi la prima domanda me la sono quasi sei bravo da rampecarti sugli specchi sei bravino ho preso due lauree così fai te l'Allegri con la Juventus ovviamente era un rullo compressore perché si è beccato proprio tutto il ciclo della Juventus un ciclo vincente con giocatori forti affiatati con giocatori con la G grande penso penso a Pirlo che ad esempio la però Pirlo ad esempio se non ricordo male era uno di quei giocatori che quando Allegri era nel Milan fece andare via se non sbaglio per mettere Van Bommel lì all'epoca a Pirlo fu la stagione il vostro ultimo scudetto dove Pirlo non giocò praticamente mai ricordo che fece un gol solo su punizione a Parma fu infortunato tantissimo tempo era un giocatore in scadenza di contratto e il Milan aveva in programma da lì a poco di cambiare la guardia storica quindi è vero che c'era stato questo attrito tra Pirlo e Allegri confermato anche da entrambi l'Allegri alla Juve Pirlo l'ha sempre fatto giocare infatti faccia la finale di Champions esatto e quindi l'Allegri della Juventus questa Juve che dominava quindi lui è stato c'è tanto di Allegri ovviamente a livello di gioco probabilmente neanche nel Milan Allegri riusciva a far esprimere al meglio i propri giocatori però era un allenatore sempre concreto poi a me piace tanto Allegri e questo anche nello Skiffers tra due anni Time Skip Tagliamo questa parte dove vinci Skiffers però è bello Skiffers inizia da qui questo Time Skip però se ridi si capisce che c'è un taglio non taglierò mai niente lo so mai anzi se tagli mi cazzo questo Time Skip di Allegri nel senso ho rivisto anche rivedo lo stesso Allegri anche nelle conferenze anche nelle dichiarazioni che fa è lo stesso cosa è che cambia cambia che prima era per i tifosi giugentini suppongo simpatico determinate uscite battute che facevi in conferenza erano simpatiche perché comunque c'erano i risultati e c'erano i trofei adesso che sta faticando con i risultati è ovvio che la battutina magari immagino confermami tu che magari la vivi meno la butti meno sul ridere perché comunque vedi che ci sono tanti problemi lui mi sembra uguale in tutto e per tutto affronta i momenti difficili in determinati modi ne sta uscendo ne sta uscendo quindi io sono un po' dell'idea di dare sempre tempo agli allenatori cioè ora che cacchio fai buttivi allegri ma anche non lo dico adesso ora non avrebbe senso ma qualche partita fa quando era magari ancora più distante dalla Champions lo cacci fuori lo suddiri fuori non ha assolutamente senso e quindi questo è il mio pensiero quindi penso di poter dire a nome di tutti e due un grosso in bocca al lupo d'allegri sperando che possa già da domenica ricominciare questa rincorsa Champions e che possa tornare e riportarla a Juve nelle posizioni che li competono fregandosene anche del destino degli avversari in particolar modo di quelli di San Siro di domenica confermo tu mi confermi mi confermi che questo video andrà online martedì 25 ah no tu vuoi mettere subito non so come non so come dirtelo dopo no no beh bella sfida bella sfida dai direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata completa e anche divertente su quello che è il momento della Juve ti chiedo l'ultima cosa come si chiama quando passano due anni Skyliner Skyliner perfetto sarà il titolo del video sarà Skyliner niente ragazzi se vi è piaciuto questo modo di affrontare un pre partite insieme a un tifoso nell'altra squadra e volete vedere la parte opposta cioè io che verrò interrogato dal dottor Brogna l'opposito possiamo dire opposito ormai guarda sei proprio insomma perfetto sei proprio anglosassone e andiamo sul canale di Daniele a vedere la seconda parte venite dai venite di là nelle schede di iscrizione apri la porta apri la porta e farli entrare schede di iscrizione dappertutto nel titolo taggato Daniele Skyliner grazie Luca grazie di cosa e Grazie a tutti